Lavori, progetti e iniziative perché oltre a quello che sembra più visibile a tutti che sono gli asfalti, marciapiedi e quant'altro c'è sempre da seguire anche altri aspetti, il mondo del sociale sappiamo che il Comune di Cusone è diventato ente capofila e vorrà continuare ad esserlo abbiamo in essere parecchi progetti quale chiudere la ristrutturazione della nuova sede sociosanitaria quando è venuto il Presidente di Regione Lombardia e il carissimo Roberto Maroni non solo ha confermato su mia richiesta ma il giorno dopo è arrivata la comunicazione che anche il rimasso d'asta, pare 250 mila euro è stato assegnato a Cusone per fare migliorie in quel luogo quindi lì dovremmo riuscire a chiudere anche la situazione dove vedremo la sede del distretto sociosanitario gli uffici dei servizi sociali del Comune di Cusone la così tanto attesa da parte degli avisini nuova sede dell'Avis che era stata promessa da tante persone e questa amministrazione pare proprio che sia riuscita a realizzare il loro desiderio e il loro sogno quindi ci si muove su tanti fronti l'asilo è certo, come l'abbiamo detto prima il primario impegno che vogliamo mettere assieme avete visto partire i lavori del Mirage se così possiamo definirli Conad è intenzionata a riprendere tutta questa situazione che è in essere però anche lì aver chiuso l'operazione ottenendo lo standard di 1.800.000 euro è stata un'operazione molto forte molto importante per il futuro di Cusone non dimentico che c'è ancora un P che si chiama Valflash che per capirci parliamo della zona Bosiolina dove la necessità del Comune di Cusone ha detto a trovare anche di realizzare una rotonda siccome giù questa crisi che ci attanaglia non permetterà di partire a breve con questa iniziativa siamo riusciti a trovare un accordo affinché si riesca comunque a sottoscrivere comunque la convenzione e poi a poter comunque avere delle idee sullo standard qualitativo quindi si stanno muovendo tante cose ripeto ci sono tanti progetti non per ultimo abbiamo visto anche l'assegnazione di Regione Lombardia di un contributo di 50.000 euro per il tennis per la ristrutturazione del nostro tennis abbiamo visto in questi giorni un contributo di 360.000 euro al Comune di Cusone come ente capofila parliamo però di distretto del commercio quindi tante cose si muovono parlare di elezioni a oggi che non c'è ancora una data ufficiale perché la Prefettura ancora questa settimana non ha comunicato se saranno in previsione il 17 e il 24 di maggio noi abbiamo l'abitudine di continuare a lavorare ad assolvere gli obblighi e gli impegni che abbiamo preso con i cittadini anche fino all'ultimo giorno ci si sta comunque muovendo da parte mia la mia candidatura la mia disponibilità è stata data credo che i rumors dicono che è stata anche ben accettata da qualche componente politico non solo locale, provinciale e regionale e quindi gli uomini che mi accompagnano mi auguro possano essere parte anche che hanno vissuto con me questi primi cinque anni l'innesto di giovani è importante ma non per la mancata esperienza ma per lo spirito di gioventù e di brio che possono portare un'amministrazione e quindi vedo muoversi gli altri, definiamoli così, concorrenti vedo un leco di Bergamo che pubblica fotografie accordi tra NCD, PD, UDC ex socialisti mi sembra che stiano cercando di fare non so se possiamo definirla una minestra particolare pur di riuscire a prendere le sorti del Comune di Crusone che ripeto in questo momento sono amministrate da una componente Lega Forza Italia Grazie Grazie a tutti.